Io sto scappando da qualcosa che non voglio Da una cosa che ho paura di perdere Ma sto nel flore che non mi posso permettere Ho perso tempo a cercare la verità Ma alla fine mi sono accorto che la risposta era dentro me Molte persone se ne vanno lasciando di niente Ma solo poche ti rimangono dentro per sempre Non so se mi hai capito Ma da oggi sono il protagonista del tuo sogno preferito Cercavo il tuo sorriso in quello delle altre persone Ma qua nessuno mi sorride come lo facevi tu Per ricordarti non mi serve una canzone Sono un supereroe Combatterò per noi ma lo farò qua giù Ok ragazzi ho notato che vi è piaciuto molto Il giochino che ho fatto chiamando uno di voi nello scorso episodio Ma era scontata come cosa E quindi mi sono arrivati triliardi di numeri Quindi cos'è che andrò a fare? Un giochino vero e proprio prima di ogni episodio E quindi vi chiamerò Voi ovviamente anzi merete al telefono E poi vi chiederò cosa ne pensate Cosa vi aspettate dall'episodio Ah una piccola previsazione ovviamente Il numero non lasciatemelo sotto il video di youtube Perché c'è per una questione di privacy Non è che io vado a lasciare il mio numero sotto un video di youtube Magari lasciatemelo in privato Su facebook o dove le pare Allora il ragazzo di oggi si chiama Giorgio E tra l'altro Fortunato anche lui nel senso che il numero me l'ha lasciato proprio oggi in giornata Quindi vediamo un po' Giorgio Eh sicuramente sono una persona partiamo da questo presupposto No vabbè No infatti cioè non è possibile Ma si è toccato No il fratello E quindi oggi dato che è toccato a te Mi devi dire cosa ti aspetti da questo episodio Cosa ti aspetto Eh ti è emozionato Adesso non ti sente nessuno Una grande Roma Vabbè una grande Roma scontato Allora ti dico le partite che giocheremo Che saranno contro il Carpi e il Bologna Dopodiché avremo anche un po' di mercato di gennaio Forse giochiamo anche col Sassuolo Comunque partite sulla carta semplici no? Sì Ecco Però come ben Non sottovalutiamo il Carpi che è il sesto Bravissima dai è aggiornato John Eh va bene dai Allora non sottovalutiamo il Carpi Ma comunque ci aspettiamo una grande Roma Giusto? Sì A posto dai Grazie Bomber Allora ci vediamo poi su Youtube quando carico il video Ok Bella Buona giornata Ragazzuoli prima di partire con l'episodio vero e proprio Non potevo che non ringraziarvi per questa incredibile soglia dei 19.000 iscritti Stiamo salendo veramente in tempo record E soprattutto volevo ricordarvi oltre a seguirmi su tutti i social in particolare su Telegram Dove oltre al canale che ho da parecchio tempo e da poco abbiamo raggiunto anche i 100 membri Ho creato anche un gruppo dove tutti quanti possiamo interagire Che culo E quindi ovviamente passateci Unitevi al gruppo e bordello Bella regà Buon video Bella ragazzi e bentornati qui con questo sessantesimo episodio Madonna che numeri Però torniamo Come vedete in basso intanto la classifica marcatori ogni volta che la guardo mi fomento Però il campionato è ancora lungo la stagione pure E oggi inizieremo il mercato di gennaio Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato sotto lo scorso episodio Perché mi avete fatto capire dove dobbiamo rinforzare la rosa Ci sono arrivato anche da solo Però comunque vi è consigliato giocatori interessanti E quindi oggi ci penseremo Prima però dobbiamo pensare Come ci diceva il nostro Giorgio poco fa Al Carpi Perché è un avversario da non sottovalutare Poi affronteremo anche il Bologna Men che meno da sottovalutare Considerando che è ancora più davanti rispetto al Carpi Insomma è il quarto posto in classifica Sorprendissimamente In italiano non esiste sta cosa l'ho detto Finisce qui Il primo tempo è 0-0 Una partita bruttina all'Olimpico Con la Roma che ha fatto veramente fatica Forse complici fantasmi di San Siro Ma per un motivo o per un altro Una Roma brutta in questo primo tempo E poco efficace soprattutto Abbiamo fatto molta fatica a scardinare la difesa del Carpi E abbiamo altri 45 minuti per portarla a casa Però subito farsi sentire Il valore diretto a Ricci Terzata di Fede E passa su un uomo Va anche sul secondo Ricci vuole il fondo Poi rientra sul sinistro Viene chiuso E poi rientra buono per Florenzia Rimorchio Ottimo sputo di Ale Che la mette in mezzo Verso Bacca Che non può arrivare Non arriva neanche Obama Young C'è però sbocco per la conclusione Infatti riparte ancora il Carpi Bacogu dentro da Vilsack Attenzione che la posizione è regolare Lo tu per tu con Dragoschi Va col sinistro Carpi in vantaggio Ha segnato il numero 9 Vilsack Roma che si è fatta cogliere in preparata qui E ha preso un gol Che si poteva evitare Assolutamente Anche se Ovviamente ci siamo scoperti Per far andarla a vincere Una Roma pessima comunque oggi Sto vedendo delle cose imbarazzanti Che anche Dragoschi Che non si tuffa neanche Un po' il simbolo di questa Roma Distratta Abbiamo sbagliato molte cose Che non dovevamo sbagliare E adesso abbiamo comunque 25 minuti Per evitare la sconfitta Perché intanto sarebbe la seconda di fila E poi Almeno in casa Vorrei mantenere l'imbattibilità A presto i giocatori del Carpi Poi Florenzi Che continua a toccarsi Ha un problema dal dottore Il paladetto ogni tanto per Lucian C'è Ronaldo che va dentro C'è Ronaldo ha visto Riesce a toccare Con la punta Per il sinistro Di CR7 La palla in angolo C'è stata deviazione La Roma si affaccia ancora Dalle parti di Belez Il Carpi E allora attenzione Il paladetto ancora per Obama Che però è molto defilato Vediamo se riesce a spingere E anche un po' stanco Da un'occhiata in mezzo Obama Young Si gira benissimo Dentro il pallone Per Bacca Non ci credo Cosa ha preso Belez Su Carlos Bacca Che ha calciato a botta sicura Il miracolo del portiere del Carpi Una palla col clamorosa per la Roma C'è fuori Lucian Ne l'ho visto Poi il pallone diretto a Florenzi Che non ne ha più Dentro da Obama Young Che si gira Calcia in botta Oh Obama Young Eccolo qui Torna il gol E fa uno a uno Riporta in parità Il tutto E adesso possiamo anche Andarla a vincere Serviva lo squillo Più importante Quello di Pierre Meric Che dopo tre giornate Ritrova il gol Questa è la quota 9 Di stagione Ricci Torna da Lucian Che vuole andare in zona d'iro Chiuso Ma rimancio C'è Nainggolan Poi Florenzi Dentro ancora per Ricci Poi Florenzi Cerca spazio Dentro ancora da Obama Young Che si gira Poi Lucian A sinistra per Emerson Ultima azione Emerson Rientra Attenzione ad Emerson Sempre per Obama Young Che poi va fuori Da Nainggolan C'è anche dentro Bacca In elettrico Le Bacca sul mancino Calcia Sul fondo Era l'ultimo atto di Roma Carpi 1 a 1 all'Olimpico Così non va Così non va Bisogna vincere a Bologna È l'unica Per tornare Quelli che siamo stati Fino a una settimana fa Allora Il discorso è che Intanto c'è un giovane Che vuole andare via E qui poi ci dicono Che rischiamo di perdere Due giocatori Che sono Ronaldo e De Rossi Ma comunque Noi alla fine della stagione Questa è la nostra ultima stagione Come sapete Quindi non è un qualcosa Che ci preoccupa Più che altro Il discorso È che È imbarazzante Come Il campionato sia Veramente Cioè dipenda da noi Ci fermiamo noi Si fermano anche le altre Ed è una cosa che un po' Mi dispiace Da un certo punto di vista Nel senso che Il campionato ovviamente Se è aperto È ancora più bello Poi ovviamente Egoisticamente Vi dico Daglie così Nel senso che così I pareggi che stiamo facendo Comunque I passi falsi che stiamo facendo Pesano un po' di meno Ma per esempio Penso alla Juventus Che ha perso Quando noi abbiamo perso Domenica scorsa E ha pareggiato Adesso che noi abbiamo pareggiato Comunque andiamo a rifare Gli allenamenti Poi ci concentriamo Di maniera più importante Sull'ultima partita Del 2017 Ovvero Bologna-Roma Che tra l'altro Non si sa perché Ma si gioca Il 31 dicembre E quindi L'ultimo L'ultimo dell'anno Andiamo al Dallara Con la voglia di far bene Con un Bologna Che al momento E' molto distaccato da noi In classifica E al settimo posto Come vedete in grafica Ma comunque Non guardiamo La classifica Pensiamo solamente a giocarla Battiamo noi E' cominciata Bologna-Roma Negli ultimi 90 minuti Del 2017 Vogliamo chiedere comunque Bene l'anno Con una vittoria Intanto l'arbitro ha subito Qualcosa da fischiare Roma che è a caccia Della prima vittoria a Bologna Per quanto riguarda Il campionato Nella gestione Marconi Perché abbiamo detto Qui solo in Coppa Italia Nei due anni precedenti Abbiamo pareggiato Entrambe le volte L'1-1 Entrambe le volte Beffati nel finale Come ricorderete Ora Scerni Con sinistra ad uscire Verso Manolas La prende Ophameyang La palla è sul fondo Ora riparte dunque La Bologna Con Pulsetti Che torna Da Zuculini Quindi Fernandez In verticale per Amunier Con destro al centro Sempre queste azioni Qui Manolas Però si dimentica il pallone Quindi favorisce Amunier Che la mette al centro Dragoschi con i pugni Non è finita Pulsetti raccoglie Calcia in porta 1-0 Gran gol di Pulsetti Bologna in vantaggio Al trettatresimo Pessimo periodo Della Roma Pessimo periodo Per i giallorossi Che comunque sicuramente Accusano un po' Sulle gambe La stanchezza Di sei mesi perfetti O comunque sei mesi In cui abbiamo Abbiamo speso tantissimo Soprattutto in Champions League Abbiamo dominato In lungo e largo Il campionato E quindi è normale Che è umano Soprattutto Soffrire un po' Però la pausa di Natale Sarà fondamentale Per ricaricare le battegiche Per fare Qualche colpo Importante in mezzo al campo E poi per Fare un'ottima seconda parte Di stagione Perché stiamo rovinando Un anno che comunque Sta andando molto bene Cioè So per Scerni Buono il suo colpo di testa Per Maximele Che poi si aiuta Con un braccio Non ravvisato però Dal direttore di gara Dentro il pane Però Pameyang Molto intelligente Pameyang sul mancino Prova a liberarlo Però Pressato si arrabbia Poi perché voleva farlo Pameyang Ma non se l'ha sentita Il direttore di gara Di dare il rigore alla Roma Vedere Pagliare questo pallone Pagliare a destra Puntuale Scerni Che Corre Bravissimo Scerni a resistere Quanto meno su Ceciù Poi Gli vuole passare intorno Ceciù Gli dà fastidio Lo disturba Ma resiste ancora Vaklav Poi perde il pallone Ma è fallo Ottimo Guizzo Da parte del giocatore Della Repubblica cieca Quindi Calcio di punizione A favore Dei giallorossi C'è bacca sul pallone Da cui però Direi che Ronaldo Può anche andare in porta E quindi 26 metri Per CR7 Ma prima un cambio In casa Bologna 77 sul cronometro Esce dal campo Con la maglia in numero 4 Emil Kraft Quindi Loro rinforzano la difesa Dentro Mario Soiconomu Che conosciamo bene Comunque È pronto comunque Ronaldo Rincorsa Destro E la rete Grandissimo Col su punizione Di CR7 Mirante Mirante la tocca Ma non basta Ancora lui Cristiano Ronaldo Fino all'ultimo C'è stata incertezza Perché il pallone Era lento Calciato molto bene Però Mirante Mirante Lascia molto a desiderare Su questo calcio di punizione In realtà Il pallone passa Attorno alla barriera Passa accanto alla barriera Non esattamente sopra Guardate un po' Passa alla sinistra Di Baie Mirante se la mette in porta Da solo 1-1 Ringraziamolo E per una volta Li beffiamo noi Pallone per Beghi Dentro da Fernandez Poi la conclusione Di Zupulini Pessima Pronto a rinvio Dragoschi Ottantesimo In corso 1-1 Allo stadio Dall'Ara di Bologna Parone verso Bacca Che riesce nella torre Non trova però compagni Pulgar Fernandez Riparte rapido Di Bologna Manolas deve riuscire A chiudere su destro Fa sentire anche Però la poca condizione La pessima condizione Di Manolas Intanto ancora Bologna 2-1 Ha segnato Brighi Lo stavo dicendo adesso Si fa sentire anche La pessima condizione Di Kostas Manolas Perché bisogna Giocarla in 11 La partita Non in 8 Quindi ovviamente Come l'ho detto Tornano avanti loro Un epilogo Che brucia abbastanza Però che comunque Ovviamente Non si arrende qui Perché per quanto Possiamo essere stanchi Cercheremo comunque Cercheremo Non riusciremo Ma cercheremo Di evitare questa sconfitta Cose che abbiamo fatto Nei precedenti 5 mesi Ci sono riuscite Ma Da un po' che non ci riescono Attenzione a Ronaldo Prova a far tutto da solo Va al destro Sul fondo Di nulla No Finisce qui Ha vinto il Bologna Contro la Roma Ormai è un tabù Quello del Dallara Che non riusciamo Ad evitare neanche In questa Che era l'ultima occasione Per sfadarlo Anche se È anche vero che Non avessimo perso Sarebbe comunque Finita 1-1 Come i due anni passati Quindi Vabbè Comunque Al di là di questo Perdiamo La seconda sconfitta Nelle ultime 4 partite 2 sconfitte 2 pareggi La chicca è che Abbiamo Perso Punti In 6 partite E In tutto il campionato Quindi in 17 partite Abbiamo perso punti Solamente in 6 Ma nelle ultime 4 Abbiamo perso punti Quindi solo nelle ultime 4 Non abbiamo mai vinto Questo influisce Questo influisce Perché Sicuramente ci fa capire Il periodo Che è complesso Che è complicato E comunque è normale Perché C'è la stanchezza Io sono stato un po' Cattivo Nel giudicare I ragazzi Dopo La Dopo la partita Contro il Carpi Ok Però Adesso Bisogna dire le cose Come stanno Quindi Tanto arriva un'offerta Per Dragoschi Ma il mercato Non mi sembra che fosse Ancora aperto In realtà Comunque no L'offerta si rifiuta Dragoschi Non si muove da Roma Anche se voi Tra l'altro mi avete detto Adesso non vedo qua Di cominciamo a parlarne Ma Mi alza al mattino Il ventilatore Quindi vi chiedo scusa Se sentirete più Più rumore E Mi avete detto comunque Di cedere Dragoschi Di fare qualche mossa Però comunque Non è quello Che voglio fare io E adesso Adesso vi spiego un po' Le Quello a cui avevo pensato Allora Io non vorrei Stravolgere molto La rosa Che vedete in grafica Anche perché Ha dimostrato Di essere una rosa Competitiva Contro qualsiasi Tipo di avversario Il discorso è che Sicuramente C'è un qualcosa Che devo mettere a posto In particolare Dato che mi è stato consigliato Sia da voi Sia da persone A me più vicine Per così dire Bisogna rinforzarci qui Perché Salah non basta Perché la riserva di Salah È alternata in realtà Tra Scherny Che comunque Si Ha dimostrato di essere pronto Ma è un 78 Ricci Che a tratti ha dimostrato di essere pronto Ma è un 68 E Odegaard Che si Ha dimostrato di essere pronto Ma è un 73 Parlo di Cutigno 41 milioni Qui ci dice Che sicuramente Sono parecchi Quindi Io non ho Non avevo pensato In realtà Di fare Uno scambio O Qualcosa del genere Anche perché voglio Rinforzare la rosa Non semplicemente Cioè Aggiungendo anche numericamente Perché abbiamo una rosa Anche abbastanza corta E quello è il vero problema Il terzino destro Che è Florenzi Che però Poraccio Le sta a giocare tutte Wallace non è Non è pronto Wallace non è pronto Avrà giocato sì e no Due partite E proprio per questo Ho preferito tenere Florenzi Anche Quando non era al 100% Proprio per questo motivo Il discorso è che adesso Potrei prendere Due giocatori Odescilio Il primo che mi viene in mente Che è un jolly E quindi può fare Di base Potrebbe essere Un terzino sinistro Ma noi ovviamente Lo adatteremo a destra Perché ci può giocare Però sapendo anche Che può fare il terzino sinistro Perché è un sinistro naturale Cioè un terzino sinistro naturale Potremmo anche usarlo Come jolly a sinistra Di tanto in tanto Perché ovviamente Ok john Ok emerson Però Vabbè Anche lì Sicuramente Qualcosina in più Non fa male Tra l'altro qui ci dice Che non è più al torino Bensì all'atletico È appena arrivato dal torino Mai una gioia No Andiamo a questo punto Su Decivio Perché mi sembra Una pista più Percorribile A questo punto E quindi Vediamo Quanto Possono volere A Milanello E più che altro Sono anche curioso Di capire Da voi Qui nei commenti Quali altri giocatori Potremmo trattare Perché è ovvio Io vi ho detto Sono stato molto più specifico Adesso Vi ho Vi ho chiaramente detto I ruoli Che dobbiamo Curare Intanto Loro Praticamente Ci chiudono la porta in faccia Però Proviamo a fare qualcosina Magari Andiamo sul prestito Stavo dicendo Comunque Adesso sono andato più nello specifico Con i ruoli Che dobbiamo Trattare Insomma E quindi Sono curioso di vedere Anche i giocatori Che mi consigliate voi Detto questo Loro non vorrebbero Giaderci Desciglio Però noi Abbiamo un potere Che è quello economico Abbiamo un ottimo rapporto Con il Milan Anche se Di rivalità La rivalità Sicuramente c'è Ma un ottimo rapporto Con il Milan Per il semplice fatto Che abbiamo Già preso bacca Dai rossoneri Nella finestra Di mercato estiva Quindi vado a fare Un'offerta di 10 milioni Per Desciglio Vediamo un po' Cosa ci rispondono E comunque Mentre attendiamo risposta Da parte Del Del Milan Mangio Mangio il ciambellone Grazie mamma Allora Qui ci dicono Buono comunque Il ciambellone Stavo dicendo E Non ci hanno detto questo Allora Ci dicono Che il giocatore È troppo prezioso Potremmo provare Ad alzare l'offerta Perché Perché comunque Stavo pensando Ragazzi adesso A parte gli scherzi L'atletico A Pogba Anche Bruno Perez Scarsi Scarsi Non sono Almeno non così Come Come potevano sembrare Quando Quando me ne ho parlato Mettendo davanti Il sito Qui comunque Stavo controllando C'è anche Ericsson In realtà Allora Voglio dire Esemplificata una cosa Ericsson è Destro Comunque C o C Io farei un pensierino Per Ericsson Che avevamo già cercato Quest'estate Non ricordo Tra l'altro Possiamo prenderlo Agevolmente Da quello che leggiamo lì Comunque Non ricordo Il motivo preciso Per cui Ah il contatto Molto rispettabile Giusto Per sfizio Poi ragazzi Che io sono proprio Così Ci abbiamo St'estate Un benassia Io vorrei vedere Un attimino Se riusciamo a raggiungere L'accordo Ma il discorso Qual è È che Di base Comunque Benassia A 30 anni Verrebbe Non a fare Per carità Il titolare Però Verrebbe A interscambiarsi Volendo Colmano Lass Che ultimamente Era molto In ritardo Di condizione E soprattutto Il discorso È che noi Abbiamo tre centrali E un quarto Farebbe comodo Andrei Anche A chiedere Alla società Qualche fondo Aumentando Ad esempio Qualche obiettivo E quindi Aumentando L'obiettivo Di campionato Considerando Il ruolo In cui La posizione In cui siamo Adesso E chiederei 20 milioni Sperando che ce ne diano Anche 10 Però che ci diano Qualcosina Vediamo un po' Cosa ci dicono Allora Arriva un'offerta Per Obama Young La società Ci dice Che non ha Non sono content Giustamente Noi siamo primi In campionato Agli ottavi di Champions Però no Però i risultati Sono scarsi Va bene Siamo a più 7 Sulla Juventus Qui arriva un'offerta Per Obama Young Che è tanta roba Perché sappiamo Di poter chiedere Tanto al Bayern Monaco Però dobbiamo resistere Perché Noi vogliamo Vincere la Champions Non vogliamo Rinforzare una squadra Che vuole vincere la Champions E quindi no Quindi no E Obama Young Soprattutto non è sul mercato Mi dispiace Però questi ultimi 6 mesi Se li farò L'etico Prendici La porta in faccia Per De Sciglio Sono pronti a trattare Da 15 milioni Andiamo su 12 12.5 E magari Ci portiamo a casa Mattia De Sciglio Però a questo punto È importantissimo Che la società Ci dia qualche fondo Qui rifiutano ancora Ma era scontato Dobbiamo fare Vari tentativi E continuiamo a farli adesso Poi Non so Raga Io col Sassuolo La gioco Poi magari Non dividerò Le bisogno in due Se vedo che viene troppo lungo Però Devo assolutamente giocarla Perché Abbiamo bisogno Un attimino Di avanzare Con questo mercato E soprattutto Non lo posso sospendere qui Perché non avrebbe molto senso Quindi Quindi andiamo all'Olimpico Torniamo in campo La prima del 2018 Spero che la squadra Si sia riposata In queste vacanze Non ci sono ancora stati Arrivi O comunque Movimenti di mercato Cioè quelli sì Però trattative concrete no Quindi non è partito nessuno Non è arrivato nessuno Stessi 11 Stessi Uomini in rosa Che c'erano prima Delle pause natalizie Magari però Spero con la condizione Di novembre E non con quella di dicembre Sono due squadre Belle e divertenti A cui piace Il bel calcio E anche è vero Che la posizione di classifica Le distacca molto Ma quella È secondaria Perché Roma e Sassuolo Innanzitutto Vi augurano un buon anno E poi Vi vogliono far divertire Qui allo stadio olimpico La Roma Nel periodo peggiore Della stagione Sicuramente Con quattro risultati Non utili Consecutivi Ovvero due pareggi E due sconfitte Varebbe bello La risolvesse Anche quest'anno Nengolan Cercato qui E trovato Poi De Pai Attenzione alla Roma De Pai vuole andare in zona tiro È passato De Pai può provare De Pai Calcia Manfis De Pai La risolvere E lui Con il numero 10 Di spalle Fa 1 a 0 All'89 Vanno tutti ad abbracciarlo È il guizzo che ci voleva Il guizzo del campione Roma 1 Sassuolo 0 Dopo 90 minuti di sofferenza Un po' che assomiglia Un po' a quello Messo a segno contro il Pauk Però è bravissimo De Pai Perché riesce a saltare Chi era? Che era doveva pressarlo Forse No Maier forse proprio Che sbaglia tutto Perché si lascia cadere Va in tekel E non deve mai farlo Un difensore Perché c'è sempre tempo Per recuperare Zio Bergo mi insegna Invece Qui Ci fanno un regalo È vero che Il tempo per recuperare Proprio perché c'è sempre Dobbiamo stare attenti La partita non è finita Ma cante recupera Proprio perché parlavamo di questo Quindi Ronaldo Sarebbe bene chiuderla Pallone dentro per Bameyang Ovviamente vogliamo anche La bandina Ma c'è trova ancora De Pai Ho visto Bameyang Che lo cerca Il pallone passa quasi Longhi il calcio d'angolo Finale spettacolo all'Olimpico Ha vinto la Roma Soffrendo Ma meritando 1-0 Di misura Basta il gol All'89esimo minuto All'ultimo giro d'orologio Da parte dell'olandese De Pai Andiamo un attimo A riparlare del mercato Vediamo un po' Quelle che Che sono le offerte E le trattative Allora Proviamo in ufficio Perché abbiamo un sacco di Ecco Sono gli entrati No Non è possibile Odio quando è così Dobbiamo ridare tutti in prestito Comunque L'offerta Il Bayern Dice di no Dice di no Perché non sono intenzionati A cederlo in prestito Io a questo punto Faccio un'offerta Di 15 milioni Che ce li danno in faccia Vediamo un po' Se c'è qualche giocatore Possiamo inserire Come contropartita Magari un giocatore Che non utilizziamo Che trova poco spazio Eccetera Eccetera Ma qui faccio fatica A trovarli Per la verità Probabilmente Possiamo dare Probabilmente possiamo dare Verde Attenzione Arriva un'offerta Per Wallace Che io prendo Seriamente in considerazione Perché a questo punto È chiaro che Se Se Wallace parte È fondamentale Prendere un altro terzino E quindi sarebbe Il decidio Che stiamo Che stiamo trattando Però è anche vero Che Che si dai Alzo leggermente L'offerta A 4 milioni E Wallace può partire È arrivato purtroppo Il momento di salutarci Però Perché siamo arrivati Alla partita contro i Carpi E quindi può finire qui L'episodio Con la Roma Che comunque Sembra essersi ripresa Il titolo Che leggerete So già qual è E non è casuale Nel senso che sicuramente La stanchezza Si è fatta sentire Però è anche vero Che è solo stanchezza Perché poi Abbiamo faticato Col Sassuolo È vero Era complicato Anche dal punto di vista Del Dal punto di vista mentale Però abbiamo vinto E questo conta tanto Fidatevi Lo vedremo già Dalle prossime partite Già dalla prossima Noto del Carpi Fidatevi che non sarà Il Roma Carpi Che abbiamo visto Qualche settimana fa Finisce qui Io vi invito a lasciare Comunque un like Un commento qui sotto Per il mercato Ci vediamo ovviamente Con i prossimi video Se non lo siete già Iscrivetevi al canale Io vi mando un bacione Vi saluto Bella rega Ciao a tutti Grazie a tutti.